In Toscana un progetto per fornire servizi accessibili per le emergenze ma anche per le necessità quotidiane ai non udenti. Sei sorde vuoi ordinare una pizza? Sei sorde vuoi prenotare una visita medica? Sei sorde vuoi prenotare un posto a teatro? Da oggi tutti questi servizi in Toscana sono a portata di non udenti grazie al servizio Comuni et Enz supportato dalla regione Toscana e promosso dall'ente nazionale Sordi ed Esculapio. Si tratta di un servizio dove gli operatori traducono il linguaggio alternativo dei sordi al destinatario finale. I non udenti avranno vari modi per usare Esculapio via SMS grazie a Easy Contact attivo 24 ore su 24 al numero 320-204-3207 via chat a cui si accede tramite il sito www.comunicaenz.it con l'email a toscana.comunicaenz.it via fax al numero 055-2278-278 o via telefono allo 055-033-0261 L'utente sordo può mettersi in contatto con servizi, istituzioni ma anche familiari o amici per attivare una piena relazione reciproca di conversazione, richiesta o discussione. E questo servizio ENSE serve molto per l'inclusione sociale tra le persone sordi che questo servizio serve qualsiasi 24 ore serve anche per le persone sordi che possono accedere a questo servizio gratuito. Ma il ruolo della regione toscana, l'intervento della regione toscana in questo comunica ENSE qual è? Beh, è la metterci dentro anche servizi che la regione toscana offre e che sono legati direttamente alla programmazione e all'intervento della regione toscana penso per esempio al 118, penso al pronto badante che è stato inserito anche questo nel comunica ENSE e a tutti gli altri servizi sui quali possiamo davvero fare un lavoro importante.